In Commissione è uscito un rinvio, c'è stata un po' di polemica. L'unica cosa certa e assodata è che i ricavi, cioè quella cifra che ha dato Sala, invece sono migliorati sulla base delle valutazioni fatte dai liquidatori della società, questo è l'elemento positivo. Poi i tempi dei bilanci, per chi soprattutto lo fa in sede di liquidazione della società, sono complessi, soprattutto se i soggetti che devono esaminarli sono nuovi, quindi mi sembra assolutamente naturale, tanto quanto quello che è previsto dalla legge, però quello che emerge è che il bilancio è migliore addirittura di quello che già aveva prospettato buono da parte del dottor Sala.